Il resto sono emozioni che passano, veloci, stati d'animo opposti, la voglia di non voler guardare, il cappello che può essere utile, abbassare la visiera e aspettare soltanto la variazione dello Stato, Zalewski contro Vellerroiter, va col destro e non sbaglia, e non sbaglia, e non sbaglia, e non sbaglia, e regala alla Roma la qualificazione, 4 a 2 dal dischetto, è sempre la Roma a passare il turno delle sfide contro il Feyenoord, Svilar protagonista assoluto, Lukaku con un certo sollievo dopo il rigore sbagliato, Zalewski probabilmente con uno dei momenti più importanti della sua carriera romanista, sia pur giovane, Daniele De Rossi con l'inevitabile abbraccio al proprio rivale, le congratulazioni non sono solo circostanza, quando si arriva così vicini, con una distanza così sottile, impercettibile, dopo 210 minuti il destino dei due allenatori è comune, sei appeso al vattito d'ali di un calcio di rigore segnato o sbagliato, la Roma passa, passa 4 a 2, Svilar protagonista assoluto, la delusione di Adiresa e di tutti gli altri giocatori del Feyenoord, l'Olimpico è una festa!